Le previsioni per martedì 13 agosto 2024 di Globus Television Martedì, una nuova giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso ovunque, da segnalare qualche maggiore addensamento nuvoloso e piovaschi sulle zone interne al pomeriggio. Le temperature massime potranno aumentare fino a 38 gradi sulla costa ionica. Mari, mar tirreno calmo, mar ionio poco mosso, stretto di Sicilia da quasi calmo a calmo.